È l'ultima settimana prima del nostro grande evento del 3 ottobre alle ore 21, te lo ricordo ancora una volta, Felicità Scientifica, un evento in cui andremo in profondità per cercare di far capire a tante persone, perché sono veramente tanti iscritti, che si può, si deve fare un lavoro su se stessi per ottimizzare il proprio livello di felicità. L'ho detto tante volte, l'obiettivo non è raggiungere un concetto di felicità astratta e difficilmente definibile che vada bene per tutti, ma piuttosto quello di dare a ogni persona degli strumenti concreti e operativi per essere ogni giorno un po' più felice del giorno prima. Una delle cose di cui ho parlato molto in questo mese dedicato alla felicità è il ruolo dello stress, perché lo stress indubbiamente è ormai onnipresente, è difficile incontrare una persona che sia veramente priva di un certo livello di stress cronico e diventa totalmente diffuso il tema dello stress da essere quasi banale ormai. Quante volte sentiamo persone dire vabbè sarà stress, cosa vuoi che sia? Anche in medicina spesso si dice, quando non si capisce esattamente che cosa una persona ha magari si dice sarà stress. Peccato però che le ricerche scientifiche ci dicano in maniera inequivocabile che lo stress non è proprio una banalità, non è una cosa che non ha un impatto sulla qualità della nostra vita e anche sulla nostra salute. Lo stress è anche uno di quei fattori importanti che finisce con il togliere la nostra felicità, perché è un po' come se ci condizionasse ad essere sempre costantemente in questa situazione di tensione, di combattimento e fuga, nel contesto della quale è sostanzialmente impossibile sviluppare un vero livello di felicità. E poi tante volte la persona si convince che è impossibile essere felici, che le ragioni della propria infelicità chissà quali sono, no, ma in realtà è da un certo punto di vista più semplice di come spesso si pensa, cioè molta della nostra felicità innata viene proprio spenta da un certo punto di vista da fenomeni come lo stress. Sappiamo anche che lo stress ha questa grande capacità di alterare la nostra regolazione epigenetica. Noi non siamo fatti molto semplicemente per stare in maniera cronica in condizioni di stress. Lo stress è una reazione fisiologica fino a quando rimane breve, momentaneo, destinato in un certo senso a risolvere una determinata situazione che ancestralmente ovviamente era una situazione che metteva a rischio la nostra vita e che appunto richiedeva una risposta di combattimento oppure di fuga. Ecco, è chiaro a tutti noi che oggi questa reazione fisiologica nella stragrande maggioranza dei casi non viene utilizzata a livello comportamentale. No, nella stragrande maggioranza dei casi non dobbiamo combattere contro nessuno e non possiamo fuggire da nulla. Però questo fenomeno che avviene nel nostro organismo di iperattivazione c'è. C'è e non viene utilizzato. E questo è un primo problema. E il secondo problema è che c'è e non si spegne mai perché il fattore scatenante non è un leone che sporadicamente ti poteva minacciare ma è la stessa vita che conduciamo, la nostra stessa vita è la causa principale, il fattore scatenante principale della risposta da stress. Ecco che in questo modo rimaniamo veramente intrappolati, è un po' come se fossimo all'interno di un labirinto da cui non riusciamo ad uscire perché la modalità di vita che abbiamo scelto o siamo stati costretti ad accettare è il principale fattore scatenante del nostro stress. Il nostro stress disregola la risposta epigenetica, peggiora la qualità della nostra vita e anche ci espone al rischio di sviluppare molte malattie. Anche su questo i dati sono inequivocaboli. Si sa da tantissimo tempo che lo stress è una causa importante o una concausa di molte malattie. Parliamo di ipertensione, di infarto, di ictus, di obesità, di disturbi gastrointestinali, di insonnia, di ansia, di depressione, parliamo di certi tipi di tumori, parliamo di tante altre alterazioni del nostro comportamento e anche nei confronti degli altri. Pensiamo alle reazioni per esempio legate alla rabbia con cui ci sfoghiamo da questa tensione interna salvo poi ricadere nello stesso meccanismo di prima e dunque lo sfogo risulta sostanzialmente inutile. Ecco queste sono tutte malattie che sono state collegate allo stress cronico. Non è detto che l'unica causa sia lo stress ma nella maggior parte dei casi lo stress è perlomeno una importante concausa e spesso è una concausa precoce, cioè spesso è la prima cosa che succede. La persona sotto stress poi per cercare di compensare alla sensazione di stress, di stanchezza, di tensione magari va in cerca di compensi, adotta dei comportamenti che aggiungono ulteriori danni allo stress. Pensiamo alla tendenza per esempio a iniziare a fumare in persone che sono particolarmente sotto stress e poi l'associazione appunto dello stress con l'esposizione al fumo due fattori di rischio che si amplificano l'uno con l'altro. Poi c'è anche un altro aspetto, quando poi ci ammaliamo c'è anche lo stress causato dall'essere ammalati, dall'essere preoccupati, dal non sapere cosa succederà, dal dover affrontare terapie, cure. Quindi questo chiaramente enfatizza ancora di più lo stress che viviamo. Insomma, credo che il punto principale qui, come per tante cose che riguardano lo stile di vita, sia che in realtà dovremmo prevenire. Dovremmo non fare la battuta sarà stress e andare avanti come prima, ma dovremmo essere capaci di identificare alcune variabili su cui lavorare per disinnescare questo livello di stress prima che diventi una concausa di malattia. E se prendiamo l'esempio dell'ipertensione, che fino a qualche decade fa era una malattia degli anziani o comunque delle persone sopra i 60 anni, adesso è diffusissima tra i quarantenni e la ragione è che l'ipertensione, l'aumento della pressione arteriosa, al di là di tanti altri cofattori, è una risposta fisiologica all'ipervigilanza, alla tensione, allo stress. Quindi non c'è da stupirsi che ci sia. In questi soggetti la ragione dell'ipertensione non è un'alterazione del sistema cardiocircolatorio, è una disregolazione del sistema cardiocircolatorio che risponde perfettamente bene a uno stato d'animo che richiede un aumento della pressione. Peccato che questo stato d'animo appunto sia cronico, non sia sporadico. La cosa secondo me importante da capire è che in realtà ci sono tantissime tecniche, tantissimi interventi ben precisi che si possono adottare per imparare a contenere lo stress. È chiaro, non si tratta di pillole miracolose, si tratta di un lavoro su se stessi che a volte comporta l'imparare qualcosa, il praticarlo fino a farlo diventare un'abitudine, ma le tecniche ci sono, dalla meditazione al training autogeno a tante altre tecniche di rilassamento e di riduzione dello stress, oltre al lavoro che si può fare su se stessi per cercare di percepire in maniera differente gli eventuali fattori scatenanti per evitare che questa risposta poi diventi così eccessiva. È un lavoro, è un lavoro che bisogna fare su se stessi, non è un risposta automatica facile da ottenere, però la scelta è tua ed è sempre così purtroppo. È la scelta di continuare come prima, non fare nulla o è la scelta di rimboccarsi le maniche e provare un passo alla volta a sviluppare delle soluzioni. Di soluzioni e di lavoro su se stesso ti ricordo ancora parleremo più approfonditamente il 3 ottobre alle 21, ti puoi iscrivere da qui, l'evento è completamente gratuito, ci sono già migliaia migliaia di iscritti, quindi sono molto felice perché vuol dire che questi temi evidentemente interessano a molte persone e lì ci sarà la possibilità di andare più a fondo e capire qualcosa in più di questo argomento così importante che è come lavorare su se stessi per ritrovare un livello più alto di felicità. Ti aspetto il 3 ottobre.